non è usato vero ed eccoci la e la q si come state come stai come prima potremmo fare due team però da quattro e come fai è un casino non ce l'ho scaricato io ma poi mi piacciono con le voci no ma dobbiamo ringraziare qualcuno si avete visto l'ultima canzone non la sentivo da 5 mila anni io credo che 5 mila anni tu non li abbia il signor vince non è vero dobbiamo ringraziare alan gamer tu stai guardando non so che cazzo stai guardando ah no è vero si vince 95 adesso vabbè non sono usciti non lo so io vabbè lone wallface 95 alan gamer 25 e vince 95 e anche amenor you ma quello non lo vedo io quello non lo vedo grazie mille ma non sono ridi adesso mi è arrivato una littele grazie mille grazie mille lo so perché mi sto riuscendo vabbè ok ho leggetto al gioco grazie l'italia lo ha ziccato il gioco quindi non so la vita è quadratto e carico abito io un team invito io vai 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 per me in vita gli altri dovrò cercare un attimo karim al grino eccolo il personaggio è sempre io jackman in logan si è sempre il cappello leccato che gli arriva fino la bocca è un vergonzio si sono i capelli di più di paio io sono più di paio di pad finder domani domani ci sono stati problemi ma mettiti la sacchetta perché no voglio essere nudo ma è come se non cliccate go nessuno pari ai ragioni io ve lo dico restiamo qua vita comunque ci hanno chiesto che possiamo poi fare su curso la stanza di freestyle football che ci sono di bene tutti qualsiasi assolutamente poi cazzo vuoi bello è lo so io ma vedi mettiamo le partite di fila te le fai pochino voglio la jace grazie mille jace grazie quinto mese quinto mese e anche mark voglio il gioco di calcio di nazuma e levin in multiplayer bellissima però sarebbe bello non è il 3ds aspetta che guardo ce lo guardo ma so che vorrei lo vorrei lo vorrei tipo pista di football se non è il multiplayer che si dice internet dice si e ma lì si parla tutta squadra non è ognuno del suo personaggio vabbè adesso per te lo intendevo io no karim gioca io non gioco perché lo karim gatto è splitta di notte adesso poi ma se lo cambiamo come prima come stai tu ha compiuto tant'anni ieri ma non ho fatto niente sono solo uscito di casa è la mia fine niente e basta sei un uomo vecchio marco terra de rose sanders un'ora e cinquanta che dice adesso andate in giro chiamandomi i fantastici quattro importantissimo cari in culo ho proprio urlato a esprit e esprit 2000 e multiplayer si mancava non so più leggere marco ah grazie a necessari pixel che stai un attimo fermo grazie per paolo io sono bloccatissimo a me a me non è un semplice saluto a tutti è un abbraccio un abbraccio a in più a marco no no perché ha scritto un semplice saluto a tutti è un abbraccio a in più a marco e un in meno a moro a a moro a quanti 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 no no si chiamano ancora sono i reduci di san patrizio starta in un minuto e io sono completamente bloccato non vedo c'è vedo il mio personaggio a tre quarti ce la farò ce la farò è perché piove anche è nota tutto verilo si vede e si vede però almeno non ti scatta mai no e vabbè almeno quello non riuscirei a strimare mp3 buco niente niente non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta domani pathfinder sfortunatamente la roba ha avuto un impegno lavorativo spostato all'ultimo perché succedono così le cose arriva domani arriva domani domani sei secondi parte quindi pensa la rose due ore e 74 dal signor signora salve termos giovedì finalmente mi sono laureato in ingegneria un ringraziamento ma anche a voi aiutato a superare dei momenti difficili grazie al vostro intrattenimento vi ringrazio tantissimo grazie a te e io sono ancora bloccato quindi aspettiamo un attimino ma no no non credo ma si aspettiamo magari sei sull'aereo tecnicamente tecnicamente sei sull'aereo e vediamo cosa succede quando arrivi in fondo e ti fa scendere ma io sono bloccato nella lobby vedevo il mio personaggio a tre quarti nella lobby senza suoni né niente quindi mi sa che davare e davare significa dove dove scendiamo in tutto questo è bella domanda non qua si adesso c'è la montagna volete andare sulla montagna andiamo sulla montagna dai lassù via nella valle grazie mille pane grazie pane sarebbero sei ma sono buono quanto scatta quando cado ti butto in picchiata magari non sulla montagna visto che non c'è niente vado più a sud est e io sto andando a sud ovest a destra della montagna c'è un incrocio a nord ovest e merda ok arrivo 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 dovrei farcela più o meno molto più o meno sono sulla montagna al momento ma più o meno ce la faccio e sto arrivando con pacote si è petto da solo un po e poi si è petto da solo proprio da pastiglio se vuoi schiantarti se vuoi schiantarti non lo so dove io anche dopo potevo pire oddio quanta gente però dovrebbero aumentare quanta gente carim vengo istantaneamente verso di te io inizio già a correre verso di te perché qua c'è davvero tanta gente e sono tutti per per le case quindi c'è un auto c'è un prendo l'auto interi di mannade e temi sempre in entrare guarda tra l'altro qua c'è il poligono di tiro mi pare il testo in questo momento drive arrivo che scattando arrivo amici spero di non trovare nessuno in mezzo ma non si sa mai averi l'ho parte benissimo è una merda da vedere però è liscissimo ma tu hai messo la ok sono io carim carim no no ma non ero alto per provare effettivamente parte stra bene porca troppo è si va bene ma ci sta e no ma anche a me parte bene in verità very low quindi fa qualche cosa si sminchiano tutti i colori non ci sono io è tutto è tutto è tutto grigio è tutto grigio ho fatto una nuova texture di più ci sono del ammasso di di schifo o di passi ragazzi pathfinder pathfinder è domani ripetiamo seguiteci sui social così queste cose le capite subito senza che c'è stato c'è stato un problema ci dispiace sarà domani pomeriggio ti è bloccato in gioco niente è spretta inutile e carimma da una cosa che doveva essere in 4 siamo rimasti in 2 va a posto il problema è che non mi sa caricando edifici non mi ricarica bene il testo ma si ogni tanto succede potevamo scrivolo nel titolo potfinder domani eh infatti l'ha scritto nel titolo e io non lo vedo fammi reperciare dei zru grazie garfield fc questo è un dei grazie mille per la stampa ovviamente per gli edifici sono tornato forse l'ha fatta? anche me ci ha messo due minuti a caricargli edifici la prima partita non so scendere eh di qua c'è la porta per poi scendere ecco qua tra l'altro le mie ombre sono bellissime io le vedo dei quadrati al posto delle mie ombre ma vabbè ok vogliamo procedere non in quella direzione che abbiamo visto che sono scesi in quel mondo ah un medikit ma gatto comunque è sceso mi fa piacere è giù però non è giù dove? è vero ci sei? nel terreno sono nel menù amici vabbè sali su prima che stavi streamando tutto a posto adesso ok dove andiamo? e mi serve un'arma anche a me serve un'arma quindi andiamo a dire ma quello oddio questo cespuglio mi sembrava un uomo che correva ma si c'è tempo c'è tempo dov'è la zona? ci siamo ma hai provato a entrare nel gioco? è a sud sud est e vabbè la macchina siamo a posto è gatto è ticca storia a parte che è pieno di macchine è pieno di veicoli sto è molto adatto il tutto dimmi hai provato a rientrare nel gioco? vado lì in fondo tanto mi precedo a parte che queste porte erano aperte Karim ci sei passato tu o? no e allora ci è già passato qualcun altro a posto e sono fatte tutto vuoto io vado a piedi sul ponte vabbè fatto adesso mi va bene in quel gioco più o meno tiro a sotto la sped carenma ma si dopo un po' che carica le texture e tutto va bene no più che altro è che adesso non c'è niente se ti avvicini in città vedi come eh qua è un problema mi ricordi il vecchio dei corro veloce madonna no mi ricordo di dei che dovevi aspettare che spawnava la città no doveva spawnare ah tra l'altro correvi troppo in fretta non spawnava la roba eh si pensa a te che schifo ah ps karim io te lo dico ah cazzo merda da qua non posso aiutarti karim eh aspetta io vado via sono col carpono ahia carpono carpono e quindi e io? eh spritz è inutile lancio una granata beh lancio una granata lancia ma così era lì era proprio accanto ma tu non hai armi e cucchiere che ha aperto la porta della eh si mi scappo 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 era proprio lì di fianco era beh sanders non è che lo sto facendo girare bene eh sono a ultra a very low eh sprit niente siamo morti l'unica cosa che potevi fare era buttati in acqua adesso eh che bravissimo 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 tutto liquido bene ricominciamo insomma no? yeah ah no c'è ancora il gatto ah no c'è ancora il gatto ah merda no eh io esco exit to lobby e dovete per forza eh si e si sa che la prima è sempre di riscaldamento ma si la prima è io sono caldissimo hai rotto talmente caldo che hai rotto il gioco cosa faceva che correva indietro è pazzo è pazzo sto drogato scappavo scappavo lì sei ritornato sul copino a te qualcuno si è cagato addosso io ho sentito la liquidità si si l'ho sentito io io ci sono io ho già cliccato ready da mezz'ora quindi aspetta ok io non ci sono com'è e adesso ci sei qualcuno mi ha tirato una bomba sulla scrivania oh bravissimo è sempre la stessa battuta questo qui va anche a una volta il gioco è instrabeta però dovrebbe uscire a tirare la posta sperando vada meglio come girazione infatti la prima dai ragazzi Karim è nudo cosa stiamo parlando la prima è come se non l'avessi giocata guarda sono l'unico che ha trovato un'arma tra l'altro gli ho sparato con la balestra e non gli ho fatto niente e gli mi ha sparato sono morto vabbè eri a due metri da lui e aveva il il fucile a pompa e quindi infatti non era una buona tattica sento sparare ho l'impressione che sono nella situazione del gatto prima ma io quando un uomo con la balestra incontra un uomo con il fucile ma senti sparare si sento sparare eh io prima non quindi ah ok giallo non cambierebbe niente e chi ha la fine se cambia lo streamer il gioco comunque non è che gira bene ok ok e poi comunque anche il gioco non è che è anche il gioco che è ottimizzato male anche Karim ha dovuto mettere a medio basso che è a 1.80 vedete voi io voglio salire la sopra e buttarmi di sotto no ma perché è ottimizzato molto bene basta che non succeda niente esatto l'importante è che se stai fermo in mezzo a una radura è perfetto si è come sempre su The Hits che per avere un framerate decente si correva guardando verso l'alto si mi ricordo Morrowind che guardavo in basso così non caricava niente che troia che tristezza è uscito un articolo è uscito un articolo delle mappe più grandi del mondo di videogiochi come sempre come sempre lo fanno ogni due mesi a parte Minecraft qual è quella più grande di The Witcher adesso? ma non vai a Napoli Minecraft si continua a creare appunto a parte quella quella più grande è Daggerfall ah e vabbè ma Daggerfall è praticamente come Minecraft esatto quelle non procedurali quelle non procedurali è Guild Wars Nightfall pensa ma il DLC? 39.000 km2 si ma puttana Eva ma com'è possibile? eh si siamo tutti su l'aereo si siamo tutti sull'aereo mi sono sempre chiesto dove vogliamo scendere? mi sono sempre chiesto come si fa a misurare? eh vai in base a tipo all'altezza delle porte sai che una porta di solito è è alta di solito 2 metri e 10 con le spanne e poi vai avanti con i regoli zelda è ottavo dove andiamo ragazzi? non qui che c'è la città su un fiume aspettiamo ancora un attimo andiamo su Lettna usano la farina di Ghentera pientrano e lo misurano più ma aspetta qua sotto c'è un villaggetto volete andare? eh va bene per me va bene non è un villaggetto eh merda è una città intera beh scendiamo giù dritti allora si andiamo giù dritti giù dritti giù dritti c'è la campagna lupia cose su le case la campagna lupia giù dritti leggermente verso sud ma il pokemon leggendario? si 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 se dj evolve poi rubia però state andando tutti a fare in culo io non so dove devo andare ci sono dritto giù no ci hai ragione ci sono il dlc di the witcher questo qui eh madonna cuvoni di fieno ci andiamo così andando destra e sinistra che bello vedo gli occhi della casa vanno a casa interessante vabbè eh sprit quanti problemi però nella tua vita questa casa c'è un orticello che bella e io infatti sto andando qua perchè gli fotto tutto l'orto ma stronzo ma sei nella casa mia si si mi sa se c'è il foco amico mi sa se c'è il foco amico bastardo io ti ho rubato le munizioni mi sa ma allora non c'è il foco amico non c'è il foco amico non c'è il foco amico in h1 su arma me lo ricordo no in h1 non c'è su arma non c'è qua eh quindi qua ci sarà è molto probabile che ci sia qua in realtà non ho mai provato a sparare a qualcuno in h1 dei nostri quindi no infatti anche per essi dei pugni aspetta che tolgo non fa niente eh ma anche qui credo che i pugni non contano prova a tirare un colpo di pistola magari con la mutata c'è il foco amico c'è stato tu? hai noto? e chi è stato? come c'è il foco amico? ah con le pistole c'è il foco amico eh non lo so non io con le armi da fuoco non qui non da noi aspettate che ci hanno sparato dietro qui ed in ton covoni sono io mi parte malissimo adesso che c'è due casi in più vedete e quindi anche se cambiavamo stream comunque è sempre una merda si almeno almeno ho la fibra quindi vedete una bella merda no almeno non sta neanche scattando no non sta scattando non vedete scatti e non vedete male scusa cappa tu sei entrato nello streaming dei termosifoni e mi stai chiedendo chi sono i termosifoni conosco solo gatto e carino eh vabbè magari è nuovo e comunque siamo noi siamo noi quelli belli a differenza di gatto e carino esatto comunque sento sparare io eh esperto sono io che entro che paura non hai ridotto gatto sei morto? arrivo a salvarti a redimerti io toto tutti che notte hai notte dentro la tua no no io sono ah è nuovo sono andato verso esprit beh comunque siamo i termosifoni quali c'è lì? c'è il nostro link al canale youtube lì c'è la presentazione di tutti i membri arrivo come posso cambiare da una persona all'altra dove guardare? ah page down page up page down page up e anche vai avevano bisogno di un tasto perchè chi è nuovo vada sui link lì c'è tutto spiegato si perchè è nuovo ci sono sotto tutti i link anche nella descrizione esatto c'è tutto spiegato come quella hai notto? quando è che te ne eri andato? io ero lì che facevo i cazzi miei ti ho visto e me ne sono andato fa il culo sono toppe case ok qua c'è esprit quello è christian de sica quello la? si 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 il murale è davvero de sica non vedo nessuno qua su me è incredibile c'è la karim però sopra e lì è dove sono morto io comunque? eh mi sa che lì ma dobbiamo proprio andare eh? e io ho delle cosine in tasca però eh la disse delle cosine tra cui delle munizioni che hai fattuto a me senza motivo fermo le rivuoi vieni entri karim è pieno di munizioni qua eh si chi è? ma che puttana ma questo? c'è chi? c'è un piano sopra si qua 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 occio che probabilmente è andato lì eh ah proprio così rainbow six vai rainbow six ma non andati in fila magari vai esprit ma stai zitto ma non c'è nessuno ma non c'è nessuno i capelli tuoi fanno cagare nessuno ma non c'è nessuno ma non c'è nessuno vabbè è meglio è un fantasma a quanto pare io mi sono cagato proprio ad osso magari sono morto di infarto combat pants blue no no lascio le mie se direbbero a me eh si per forza gira nudo quello lì non vedo nessuno neanche fuori premo page up per cambiare personaggio prendiamo le cose e scappiamo perchè non li hanno tolti dalla tastiera page up page down del no in verità sai sai c'è un tasto inutile all'interno della della tastiera che è il scroll lock quello non serve a niente ah il scroll lock quello non serve a nulla no è vero cosa aveva il gatto? il gatto aveva una pistola uno zaino niente di che le mie munizioni? le mie munizioni dove sono? le hanno fottute me le avrà rubate quell'altro ah c'è una pistola qua con i colpi io c'avevo lo zaino io lo uno ah giusto che sai perchè non ho visto il cadavere? perchè ti sei trasformato in una scatola in una scatola in una scatola vicino non qui non da noi la vicino vicino a noi lei qui mi manca guardare lucarelli dove sei? lo sto aspettando te ah abbiamo finito dobbiamo guardarci l'ombra oscura della P2 assolutamente ma è solo due ore e mezza di roba fatta sto lì con il vi ascoltate vi ascoltate di giallo di mancia ho profonda donazione il profondo nero è quello nuovo fa cagare signor fu il micotone 50 ah no ora sei a Duloc la perfetta città cazzo qualche regola c'è certo servirà stare calmi e stare in coda qui va molto di moda Duloc è il paradiso ehi amico tu e il malo su pulitevi il moro non c'ho io le tre tu l'occhio è il paradiso ma guarda aiuto grazie è quello di Shrek ma dai bello che fastidio che non avete ucciso il mio assassino e non l'abbiamo trovato è un fantasma è scomparso porca troia quindi dove si va? ehm non vecemo quanta venti magari ma siamo in mezzo proprio siamo in mezzo andiamo a Snaia Polania le storie verranno raccontate in un'altra occasione infatti andiamo a Sud seguiamo la strada e mettiamo la scelta del gatto stanno sparando comunque eh infatti stiamo andando verso il conflitto a fuoco esatto mamma mia ecco se muoviamo Sud e via colpi singoli occhio a colpi singoli colpi esprit colpi esprit esprit metti colpi automatici colpi singoli stai attento esatto io ho una granata l'hai provata a lanciare ti fa vedere la traiettoria è bello magari non lanciarla magari non lanciarla però non puoi io non sto vedendo nessuno pote chiuse munizioni che spavento i due un uzi me l'ho fotto fa schifo ah no ma guarda ha le stesse munizioni dell'altro dai un duello 1 puttana eva ma porca puttana esprit sotto mi nascondo mi nascondo mi nascondo mi nascondo bravo sei salvo ciao giulet non ti ha visto non ti ha visto non ti ha visto non ti ha visto e sprint vai a sinistra sei durato a sinistra vai 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 bravo è un ucciso però dai ma questo è davvero dal nulla davvero dal nulla inansare il rumore dei passi è un po' si perchè sono davvero usciti dal nulla da dietro di noi si si io l'avevo sentito ma pensavo fosse i not però porca vacca è come rainbow six che chi ascolta da fuori guardi tu cari indietro gli scatoli è vero che devo fare era libero tranquillo mamma mia mi son cacato comunque fu il micotone grazie si grazie mille era il rumore della vecchiaia questo marco il rumore del papà 50 riproviamo di nuovo vai vai questa volta mi girava meglio il giorno domani è la festa del papà auguri auguri esatto a tutti i papà auguri a carino i papà che ci seguono qualcuno non ha arrediato ah io scusate sono troppo abituato tipo a rainbow che parte il gruppo e invece no sono davvero usciti dal nulla ragazzi ho vento però poi ovviamente il primo che schioppa sono io in faccia beh anche a gatta non ho sentito nulla lui se c'era in otta vicino a lui va via in otta io a uno a matriato ma dai wick domani poi cos'hai senza persone eh sì senza persone sono le patatine domani sereno senza persone non ce l'hai carico ti mani no io domani io domani mi vado a prendere non lo so in qualche modo qualche patatino qualcosa da mangiare me la prendo perché io so cosa succede domani è anche io e io la vostra morte che rimo sono venuto a tagliarti la barba aspetta per mamma sono venuto a taglieggiare scusa ma sto falcetto non colpisce ma il falcetto è un po' un casino da ma guarda guarda auguri a karim che il papà dei termosifoni bellissimo sono gaemon adesso corro corro e mi taglio metà metà strada rompo le gambe in otto ma che segni questa qui del riguardo ma è l'interno via vecchia chiaramente vecchia come vecchia c'è i capelli bianchi e gallina vecchia adesso mi va il brodino mamma mia che voglia che ti vengono è il bruno che parla non ha mangiato del riso io ho mangiato del riso il riso e lo zafferano ma solo io ho mangiato i paccheri si io ho mangiato i paccheri di minorità ho mangiato costicine queste patate beh questo cucino non è preciso mai io non sto sgarrabbiato cari ma ho mangiato le costicine le costicine cosa c'è che non va le costicini ha mangiato quelle di legge costarelle comunque le crosticine il sangue era grubato me lo metto nel pane ma quanto carissimo lo sciogli con l'accendino che fai gli sciottini che buono ieri c'è una scena brutalissima e ho dovuto strapparmi gli occhi addirittura dove in quel film e immaginavo ci fosse qualcosa di no ma solo quella lì in realtà è anche abbastanza comico come film e beh è della stessa un po' della stessa comicità di Dirk Gently ah ok tra l'altro c'è sempre Elijah Wood quindi è quella comicità che non è comicità è Elijah Wood che fa una cosa diversa da Elijah Wood Dirk Gently dove andiamo amici? dove andiamo? beh andiamo qui si comportano qui è quella comicità di gente che si comporta in modo strano quindi ridi perché è strana la situazione perché di solito l'hai già avuto fa quello che subisce che è molta gente puttana no qui no e qui no infatti fatti comunque niente a un certo punto si vede una mano con un dito tutto storto e io e io guarda a me dei film ci sono film che ho visto dove succede qualsiasi cosa c'era no Karim tu hai vedi quanta gente guarda in alto porca puttana c'era una bella figa di prima c'è questo film chiamato creep con questo obrobrio nella metropolitana che rapisce una donna e le ficca un un enorme seghetto chimico nella vagina e inizia a segare avanti ma cosa e non mi ha toccato non mi ha toccato ma neanche lontanamente vedo uno che gli si spezza un'unghia e la fine mi piego tutto sul divano se potete correte verso di me perché da voi è una cosa improponibile io ve lo dico io mi chiudo qua nello sgabuzzino ma siete tutti morti se mi ammazzano mi ammazzano niente io sono sceso qua pensando fosse una casa invece una catapecchia con due assi di legno e basta e io sono scappato dalle persone c'erano troppo eccetera aspetta aspetta che stanno già sparando e beh niente esprit corro verso di te saremo i due sopravvissuti Karim dove stai andando eh qua stanno già sparando c'è meno gente qua fammi trovare almeno una pistola io c'ho la palestra la palestra c'ha io ho un rivolgo si si già è lutato lì andiamo via andiamo via andiamo via comunque il film per chi volesse si chiama I don't feel at home in this world anymore è la canzone di Ed Sheeran si infatti Ed Sheeran è a Torino ricordavo un sacco Winona Ryder tra l'altro Ed Sheeran ha fatto il il concerto da solo con solo la chitarra madonna che forza la madonna ha fatto uno di quegli spettacoli che si fa nei bar esatto solo in uno stadio però però con quasi 50.000 persone vicino la chitarra non era amplificata esatto non aveva il microfono 14 operai con un microfono puntato verso la chitarra ha dovuto urlare perché lui urlava fortissimo e infatti lo sentivano quelli al bar e le altre 20.000 persone no painkiller mio la chitarra non serve guarda te che ti hai preso sto poraccio un episodio in tutta la casa io ho visto le prime due di Iron Fist e come dicevo a Gatto la trama mi è intrigato un sacco purtroppo la prima puntata è un pelo lenta è un pelo lenta un pelo lenta si mette un po' ah dai che non deve aver fatto casino gasso gatto ho fatto casino no no è gasso perché hai lanciato la gara perché non hai lanciato la gara la gas testa di gasso è il termine che non funziona vado via ma no in realtà è la smoke ragazzi lo sapete che noi vogliamo andare via velocemente da questa vogliamo io ho trovato degli stivali io ho trovato una pistola prendete Fuse gasso come si usciva di qua dov'è la porta di uscita se non sai non so dove sei non so qua c'è un bagno anche se lo sapessi non te lo diressi ebbè gasso ragazzi ragazzi qua c'è un un backpack uno zaino ma qui c'è dello spam è un cucile enorme in osso vuoi te di Days no è di un canale Twitch ma cosa scritto sul muro si trovano anche Liric ha trovato delle cose probabilmente sono tipo quelli che sì ma Ciran fa sempre quei tipi di concerti lì ha quelle canzoni lì sarebbe strano se avessi un'orchestra sì no ma infatti è l'unico che guarderei in concerto perché non mi fanno impazzire troppo siamo una boy band una boy band basta che non faccia spendere basta che non faccia pagare non è facile fare una cosa del genere in concerto è quello ma di solito il corso del biglietto è in base una roba tipo Rammstein cioè entra in Ciran con la chitarra e poi a fianco a lui due che sputano fiamme lui sulla chitarra heavy metal lui con la chitarra sul gommone sopra la folla che suona fa stage diving proprio piano però con calma perché give me love vedi le ragazze che tirano fuori le tette anche se non è un good che famo bullet loops e non ti so dire io ho un'arma di merda e basta lui che canta è la gente che fa i bengi dove? di là è andato là dove? e dove sono io te lo indico non è che ti posso dire là dove sì ma se io non ti sì ma puoi guardare la minimappa guardi dove sta guardando il tuo pg e dici a nord adesso senti qua era tra l8 e c1 va bene va bene adesso lo so nord ovest quindi c'è un'automobile la guido non si guida questa che fa zulla ero già entrato qua a far tutto la mia balestra che a quanto pare spara dai gaso hai mai fucile te eh beh sì adesso hai un'arma te io ho il fucile a pompa dieci colpi ma scusa ma non posso recuperare il lardo gatto vuoi il fucile a pompa? ma c'è l'olfur c'è la pompa io ho l'M16 e il revolver a pompa? il revolver a pompa il revolver a pompa è difficile senti qua ma allora pazzia ho fatto più rumore la mia balestra è incredibile ho trovato il silenziatore bravo ci sono tante modificazioni per le armi ci sono anche tipo i caricatori modificati per per estrarre prima tante robe è molto l'unico è molto femminile come si mi piace tanto alle ragazze comunque fa musica leggera la sua musica non l'ho scritto non perché fa cagare ma perché a me piace anche passenger cioè passenger quella gente lì a me piace un sacco ma vogliamo levarci dal cazzo da qua vai aspetta che qui sono il padrone della casa allora no esprit quella non funziona esatto e pensavo voi altri sudditi sudditi mi sparo tutti vincere ma allora di terra di mare come scendo paola di terra di mare vabbè vabbè i coglioni andiamo alla casa di corsa di corsa la casa nel bosco ma senti che era a ritmo era a ritmo anche io ho la barba ma piango quando ascolto tenerife sia eh mamma tenerife sia è una roba incredibile tra l'altro le oh il dambaghi prendo fanculo tu va giuless va qui invece non lo voglio guarda ma è ora che mi metto dietro io nel metto guarda come corre tutto eie eie no qualcuno qua è già passato guarda se scendi dal veicolo in corsa eh non farlo muori guarda come si mette ma tu andi sta balestra trovo una pistola guarda come si mette guarda come si mette guarda come si mette qualcuno vuole una padella come arma? ci facciamo un risottino? ho fatto un bel fucile come si suona come si suona la tromba? la tromba il clekshound prende devi fare delle pernacchiette sull'ugello al barberino carimma? dimmi vuoi un risottino? una bistecchina oh grazie te la preparo? dai ma guarda come sono seduto tutto triste io sconsolatissimo sconsolata guarda qua oggi a pranzo ho rivisto ben lì dentro porca parola mi dispiace senza cagare purtroppo mi dispiace ah era quello però cagare ma non in modo aggressivo era solo un stupido brutto e basta una merda no semplicemente non rido quando lo guardo non rido esatto però non mi da fastidio non ho cambiato canale no no si lo tieni lì appunto quando mangi perchè c'è quello lancio una canata devono rifare buona la prima noi due andiamo in qua che abbiamo bisogno anche noi di un veicolo no devono rifarlo proprio nuove voglio con ale e magro quindi non può far più le battute sul seccionismo io lo spero che lo rifacciano perchè l'ultima volta che hanno fatto qualcosa a loro due era una merda qui c'è un altro veicolo qui avevano fatto quello show si madonna che merda che era era una merda alle france show alle france show dai dai con la daccia e loro mi piacevano anche a zelig dove vogliamo andare ragazzi anche lì era sempre un guano suono suono ma guarda che c'è il doom buggy qua eh ma preferisco la daccia la più copertura dobbiamo dirlo sempre perchè per i tiri fifani da un buggy in prima persona è fighissimo ed è comunque da un buggy oh madonna guarda come sgommo ho preso controllo ho le braccia rotte fa il culo che rim sorpasso bastardo con la dacia mezz'ora di carico un attimo sto sto ruotando mamma mia sono a posto a posto lo ripreso ho preso il controllo in interna no no in interna sto cazzo tronci che c***o eh ho provato a internare vai a posto tu come hai fatto a rimanere sopra incredibile che bretelle ci sono infatti non ce le ho le bretelle non ce le ho neanche passiamo fuori dalla zona a destra a destra ok dove dobbiamo andare ah ok è qua a est io non ho tanto tanto fuel aspetta esprit cambia cambia veicolo non si può non si può no karim no karim c'è lo staglio cosa c'è cosa c'è 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 il micro l'ang che c'è merda quanto ce n'è ogni tanto si ci metto un po' a entrare nel coso ho visto c'è la forza dell'acqua guarda mamma mia dai ce la possiamo fare che via strada karim vai 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 mamma mia mi esplode c'era giù buggy prima scusa più avanti si c'era era di qua qui dove vai dove vai era di qua perché non si via strada ma non serve la strada dove andiamo noi non ci servono le strade vedi c'è la don buggy voilà è la sua campagna cambiamo si tutto ok non ci siamo fatti male ma è color merda nostra però che sei scemo e cosa sei sceso a fare voglio vinculargliela ma allora efficiente comunque karim con shift dà il colpo di turbo già che non abbiamo benzina turbo anche così è la fine allora come esplode non vorrei affrettarmi ma dietro di noi c'è satana oh merda satana è vero e niente andiamo di qua di qua andiamo diretti andiamo verso gatta salto lo facciamo anche noi sprint tutto a posto vedi tutto a posto zitto tu come ho sofferto io è veramente diventato mezzo vado davvero mezzo ok siamo nella zona sicura no puoi usarlo solo se stai fermo si spaccano le cose non lo so è esploso porca troia parcheggio parcheggio guarda con che bella fisica vado davvero sono esplose attenzione che qui è già aperto sicuramente c'è qualcuno magari è semplicemente passato visto che qua c'era il mondo come lo puoi usare di verdura no e se sei super il 75% di vita non puoi usare le bende ma che strontato eh no giusto insomma ti servono se non finisce più il gioco esatto ma secondo me non è niente cioè l'accetto però non è una cosa che su cui disguivire no infatti se non c'era non mi cambiava particolarmente anzitivo puoi fucire un po' che è meglio infatti perché stiamo luttando delle casine molto piccole allora gatto lo so che prima o poi mi sparerai come è già successo c'è una un backpack tra l'altro lui shotta noi e non e non riesce mai a sparare non riesce mai a sparare uno lì in fondo lì in fondo dove sto puntando io ho tirato una balestrata ovviamente non ci ho preso provo a tirare la granata non lo vedo io dov'è era in mezzo alle case tra est e sud est a 110 gradi ma vai a cagare dimmi il colore della casa gialla ok non andare non andare non andare ma è oltre era molto oltre era piccolissimo non dire gialla se poi non era nella casa gialla era oltre la casa gialla ma era qui eh in teoria era tra la gialla e la bianca però mi sa che sei lavato di culo sei mica stupido ho una padella io non ho paura di usarla fammi due patate va bene dai pon in mezzo il manzotin può guidare quel trattore là? no il trattore si può correre anche chinati si ma si va incredibilmente lenti non è che si corpo si si gattola è ancora là ragazzi lo vedo eh corre su per la collina dammi un chilometraggio est sud est come cazzo hai fatto io non vedo un cazzo è il very low a very low io vedo dei non vedo niente non vedo sono lì in cima gatto questo è il bello di avere very low tutte le cose che non sono lo sfondo si notano tanto sono in cima la collina no io non li vedo ragazzi il live si vedeva male appena un puntino un pixel muover beh io quello vedevo un pixel muover non è che non riesco perché sono cieco non c'è niente non c'è niente da me esatto è da me è il punto di vero che c'è la boe in mezzo sai io non ho non ho alberi non ho niente cioè quindi vabbè cioè no ce li ho gli alberi ce li ho gli alberi diventa come i primi giorni di war z dove la gente si nascondeva nei cespugli ma se mettevi i very low i cespugli non c'erano c'era gente sdraiata per terra semplicemente che fanno eh eh hanno sparato te l'ho colpito il gatto ma dove dove ragazzi io salto salto siamo sitting ducks siamo sitting ducks il gatto è morto ma perché da dove vi hanno sparato ohioio è stata in cima alla collina sicuro ahia ma ha colpito nel culo ma ha colpito che cosa ahia mi ha preso la scena di sabato il soldato ryan porca puttana via via dentro casa ragazzi ma da dove ci sta ah li li vedranno eh no avranno ho visti ho visti sono a 60 ma io sono il nero del gruppo spiegatemi un attimo tu in cima non sai mai giocare ho visto infatti tu come ti sei salvato sono salvato non è vero hanno perso tempo sparare a me per forza ti sei salvato si è ancora là lo vedo anzi cancel dobbiamo fare così facciamo i furbi ma tu c'avevi neanche l'elmetto fico fanculo per giocare neanche ci fosse stata una sparatoria tanto dei gradi comunque insomma ok io me ne andrei da qua perché loro hanno sicuramente sta mirando è difetto mobile infatti Karim in dietreggia andiamo torniamo sui buggy e andiamocene via ma cosa aveva? cecchino? si probabilmente aveva se non aveva un cecchino aveva un mirino migliore avrà avuto semplicemente il mirino quello per due o per quattro perché si trovano e si possono mettere sulle armi quindi tu sei buono hai curati sai mi sto curando in tre colpi mi ha tirato giù no guarda la sto recuperando al massimo e ti avrà scendere attacca ti avrà colpito bene e Karim c'aveva l'elmetto da pirata no a me ha colpito nel culo c'era il buco c'era il buco nel culo nel culo credibile siamo quasi fuori alla scuola no c'è la barriera la vedo ma qua c'è il buggy è l'altro dov'è? è qua lasciamo espritte da solo però è meglio che io non guido perché non ho un cioè ho solo il pompa no nel senso è meglio che guido perché ho solo il pompa quindi sono inutile voilà è che dovuto sia saggio sparare da sopra una macchina in questo gioco sì penso anche io Karim ci passiamo ma sì dai ok non di lì sì non di lì andiamo facciamo il giro largo andiamo sul bordo camminiamo a filo 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 ah di qua c'è la base l'aeroporto è un aereo eh sì nell'aeroporto di solito no di che svolazzo dico oh non è un aeroporto oh non è un aeroporto pensavo fosse un aeroporto niente Karim scendi porca troia pensavo fosse un aeroporto è perché le strisce sono dai aeroporto e infatti che vuol dire che mi segni le canaline dell'acqua che cazzo ne so e niente Karim eh va bene questo punto salire piano piano penso tutta la vita che mi son curato è anch'io uguale aspetta che mi ricuro può salire sì piano piano non devi saltare non devi saltare non va non va eh Karim vieni da qua su quelli più larghi vieni da qua Karim ah è vero è vero è vero sì è tutto puggato guarda ok 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 sai il ponte vieni qua vado là e via attraverso ma guarda che puttane che siete non è colpa mia se sembra un aeroporto mi fanno sembra un aeroporto effettivamente dalla mappa sembra un aeroporto sembra un aeroporto eh no e spirit non vogliamo andare ah no Karim ok non vogliamo andare di là no dove vogliamo andare noi in questa direzione di qua di qua andiamo a sud est preciso così dovremmo evitare i tipi che erano sulla collina e dovremmo riuscire ad entrare sono ancora in 26 vivi dai siamo nella top 40 buona facciamo niente 25 attenzione tanto sappiamo che se non fa niente poi anche vince la partita vero Karim? eh e il problema è che più tempo passa più la gente tipo ha cecchini eccetera e poi ti sciottano da lontano non sto sperando Liezar per quanto riguarda l'ottima guida vabbè non è colpa mia le informazioni erano sbagliate è una merda è quello comunque i murales sono nuovi Liezar sì non c'erano prima un'altra volta vediamo se lo spazio con la patch da 5 giga allora murale se basta allora io in tutto questo sì si possono fare squadre da 4 in questo gioco probabilmente ci saranno anche da 5 da 20 i not medikit cosa fa? i fiume e le angolini mi spedono un sacco oh ok adesso lasceranno anche da 4 perchè non credo quanto sia un'ottima idea fare da 4 e da 5 perchè dividi dividi la gente sì beh lo vado a lasciar 1, 2, 4 però un murales di stanley comunque l'ho visto io con gli occhiali da sole swag ah questo ti da il 25 estantanamente capito guarda che c'è i not dove dove? guardalo voglio vedermi è un po' sì più o meno dai più o meno permesso no Captain The Cooling erano 2 giga di patch perchè il gioco pesava 2 giga e quindi lo ripacevano da capo ogni volta perchè non era 2 giga veramente sì davvero è la nuova versione come i programmi freeware eh sì tipo OBS per esempio tipo OBS che non lo sentivo però anche Shareware te lo ricordi? io avevo un informato Shareware che dobbiamo andare via ci puoi giocare solo il primo capitolo e il resto dove vi chiederò per posto dobbiamo andare via dove è la zona dobbiamo andare via più ad est dobbiamo andare più a destra a destra non salta i muri proprio sotto non salta i muri no quello è vero manca il salta anche la rana questo qua i tuoi passi mi sembravano degli spari ero e tu merda mi sto sparando è un ucchio bene a correre in mezzo ad un campo vuoto è vero e non è che abbiamo tant'altra scelta esperi nella foresta viene spumandata dove c'era gente a volte appunto sono da sinistra mi sai già di tipi il parma cotto è tutto aperto qui si muore io entro mi sacrifico vai qua c'è una porta chiusa il che significa che ci sono tutti dentro è spirit pronto sono tutti qua io te lo dico io non trovo l'altro esci da stobare back door non dire parolacce non dire parolacce cacca arriva dentro non c'è nessuna niente dobbiamo continuare ad andare a est ragazzi abbiamo 36 secondi e poi la cosa inizia a correre e cor stanno sparando a me non so non lo so sento sparare soldi in fondo iniziamo rim arrivo vengono da voi soldi in fondo ok saliamo oh sparano eh ma dobbiamo salire ragazzi dobbiamo ci tocca ci tocca siamo da salvi comunque adesso no non ora ancora 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 ora salvi siamo qua in otto così non mi sembra una buona idea praticamente corriamo sempre verso il bordo e basta eh sì finché lo si stringe diventa un buco c'è una casetta qua sopra sì io non andrei nella casetta la sopra visto che sparavano visto che sparavano infatti che infatti che vuole tu non fai facciamo delle kill sì sì la della sul sedere sta da scudo sì sì è un'armatura in più ovviamente Karim che gli sparano sempre nel culo li farebbe bene piano piano paraculo servirebbe ah c'è una malestra wow inutile ci sono 38 caschi non mi piace questa situazione di collina di silenzio no di collina sono un po' troppe colline ma non posso che per queste colline per te ah mi parlo dal culo dal culo dal culo non li vedo ragazzi perché non avevi la padella non lo vedo ma io non vedo no ma io non vedo nessuno ragazzi è scandalosa sono da entrambe le parti Karim ah ecco perché non è questo problema c'era uno dove sono andato uno è dietro l'albero Karim l'albero a destra quello centrale in verità ah dietro dietro Karim dai da me non è possibile non è possibile ma io non lo vedo ma come cazzo no 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 ragazzi non avete capito mi hanno sparato dietro di me cioè era accanto a me io non l'ho sentito no sta cosa i passi devono sistemare questa cosa i passi devono leggermente sistemarla perché non è possibile va bene tutto ma io non ho sentito una persona che era dietro di me mi ha sparato in testa vabbè comunque noni noni dai non sono sempre stato qua rmambel noni su 28 su 28 quindi si esce? vogliamo farne ancora una una no sono uscito tu sei uscito gli ezzar vuoi fare tu una con noi eh io sono già dentro quindi posto gatto ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono invitate tu moris mi scaricare no l'ho anche stoppato che sono moris tu hai invitato mi sembia che rimani ancora dentro sono uscito no però rimane nel gruppo quindi cacciate e non possiamo è live team allora uscite voi dal gruppo live team lo ricreo io si perché io ero tutti offline ciao sara ciao sara se vedi tutti offline devi raffresciare no no ma sono dentro tanto io vedo un line solo dietro pretty arrestato il guardaline perché sbircia il micone culone questo è una comunità uno di meglio delle persone proprio visivamente qua si nascondono un po nelle frasche secondo me secondo me anche perché tutti si è accostretti a metterlo a grafica culo e quindi vedi tutto rotto no dovresti vedere ancora meglio grafica culo in realtà no a quanto pare dipende se si nascondono nelle ombre fatte a quadrettoni non li vedi grafica culo chi non clicca ready chi è che non sta mettendo ready io ho sbagliato culo cazzo potevo stare zitto potevo stare zitto e invece cazzo palle io voglio ucciderne uno tu che palle esprit tu voglio ucciderne uno io vedendolo magari dai ucciderlo senza vederlo e da pro spari a caso e ammazzi unico odda merda si è bloccato aspetta stanno sparando stanno sparando ok vedo si ci mette solo un po' a entrare anche me ogni tanto e comunque caricare più veloci di altre volte a me a me a me no però cioè siamo là una pistola diciamo che altrimenti è migliore per il fatto che posso giocare a c a 30 prima almeno allora per salire là devo passare di qua e poi correre finch 15 minuti ma mi distraete eh grazie corro corro c'è arrivo e mi butto di sotto corri corri salta 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 verso la mia morte non sono mai andato di là non sono c'è un tunnel qui ciao ciao buona giornata buona giornata è un'erba lobby no in un minuto non ce la faccio in un minuto non ce la faccio a salire sopra e buttarmi ah devo farcela devo farcela oh mai devo farci vai forest corri per le scale non corre per le scale cammina tranquillo che fastidio ma le scale cioè se corri per le scale vabbè fa le due a due non lo so devi per forza farle una alla volta come snake tutto tutto stealth e poi fai tit 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 ah aspetta eh yeee ai no tutto a posto ciao ahi no eh sprint sei passato attraverso il l'albero l'albero è perché non esiste l'albero tutta una finzione no si si come guarda che belle ombre che hanno queste rocce apri la porta che bello giocare a very low pizza mario mi tuffo e invece no ah vedi siamo a 99 nel servo quindi il massimo è 99 no 98 no non è vero il massimo c'è 100 io non ho mai visto 100 mai raggiungerlo basta una sua squadra da 4 quindi 99 ok 100 è sbagliato comunque si infatti quindi 98 è giusto 96 no si 93 dove andiamo? eh con calma lasciamo un po' andare sto vero perché andare su questa visione non è una buona idea ditemi voi quando andiamo giù in fondo piuttosto sull'isola grande ho già sentito quello che cattava Waka Waka no li ho buttato tutto io a far culo ok oltre il fiume dove adesso si fa le carte qua così no io andrei nelle casette no sono troppe però lì andiamo qua andiamo qua andiamo qua andiamo a caso 3,2,1 via esatto esatto dove andiamo ma lì c'è una casa in mezzo da montagne ma sono quei palazzoni nord est nord est ok si in quella specie di cava lì ah c'è uno che arriva da cava eh vabbè ma è tanto no o dall'altro ok ciao Marceline ciao Marceline ciao Marceline no ne vedo uno da cava comunque vi ricordiamo Pathfinder domani alle 3 esatto domani alle 15 due alla cava vabbè ma è pieno è pieno di edifici fa un culo esprit fa un culo esprit io scendo sull'edificio sopra però io scendo qua io scendo qua no c'è un tizio non di noi che sta scendendo lì no è sceso giù no aspetta si sta schiantando ok è sceso sotto io probabilmente ho un'auto si ho un'auto utilizzabile vicino no io c'è il problema ancora con gli edifici che li vedo come un quadro del 700 bello è un tizio che è entrato nel palazzo quello enorme in mezzo è un tizio è un tizio enorme non ci sembra l'ora è un tizio enorme è un tizio enorme è un tizio enorme è un tizio enorme si si faccio tutto vi vengo a prendere mi piacerebbe avere un'arma io ho due fucili ho capito uno posso darvelo ma si però cazzo e poi poi c'è un fucile e siamo in quattro due fucili in quattro e vabbè ma almeno ci allontaniamo da non è due fucili per uno in quattro esatto ciao Gabbo ciao Gabbo ciao Gabbo ciao Gabbo ho paura di cadere nella cava infatti ho fatto bene a prenderla larga non ero a un aeroporto corro via magari non mi sfondi le orecchie sto parlando su da voi gatto quelle case stanno sorridendo però che sta risata dove sei nei comici? quelle case stanno sorridendo e tanto nessuno qua aspetta che mi ha caricato il video lo vedrai tu no sembra non ci sia non ci sia nessuno gatto da dove? mi sparano contro e io sto cercando di venire da te ma no fai il giro il problema è che la rampa e guarda dove cazzo devo andare per venire da prendere ma non mi devi venire a prendere mettetevi in salvo io sono in salvo sto cercando di coprirvi dall'alto ma non vedo nessuno e si Ebo però la macchina ce l'hai tu vabbè ma io ho l'otto scopri c'è un tizio morirò infatti è diventato tutto grave no e voi andate voi andate sarò morto e per woods sono morto no in realtà non mi ha ucciso si mi ha ucciso eh si sono venuto fuori e Sprit cerca di scappare sono due adentro tiro il molotone non ci arriva più no l'ha acceso lo stesso merda via via run run motoroni si era un po' forzata thunder e Sprit no da qua non riesci a entrare fai il giro largo cortesemente si adesso ti do il fucile tanto agognato cortesemente ben gentile ah sei scarelle che munizioni ci vanno queste ok ci vanno che mi ammazzano in oltre grazie eh no non riesci a salire da qua forse da più in basso da dove sei salito tu gatto eh da un pelo più più a valle si correndo sto correndo vedo se vedo qualcuno ma guarda te dove sono messo io ma mi sono fatta con le zone vi vi è perché c'ho l'otto scope quindi devo usarlo ah no per mirare in prima persona basta che perdono mi spalla dove niente aspetta fammi scegliere in otto vabbè ma dove cazzo dove è la scusa mezzo a pensare di far quanto si allunga non c'era nessuno in zona gatto andiamoci notto non vedo un cazzo ci leviamo dal cazzo leviamoci ah sul tetto mi sa che ero ranna dimmi dove andare dritto va bene non girerò mai più lo sai vero ebbo usciamo dalla zona contaminata vai un po' a sinistra ancora c'è una di più vai a sinistra abbastanza è abbastanza 90 gradi per quanto sia vabbè andiamo lì a vedere la come ti indico come mi indichi lì vabbè se dura abbastanza questa qui magari chiudiamo dopo di questo sì sì no ma chiudiamo proprio qua sì se vuoi parcheggiare più in là porca miseria stai buono tu non sai non sai tu non sai una sega hai noto credo in te grazie esprit Isabella con chi stai parlando che mica capisco non lo so sta rispondendo aspetta zitti ma io non forse vuole scrivere in privato a qualcuno ma non ho fatto però se vi dico zitti che già non si sentono i passi se mi parli pure sopra c'è una balestra qua gatto se vuoi visto che l'ultima volta è andata bene la balestra è sciolta sai sì devi colpire però eh sì ma sta scrivendo Aoka Katsuka a Gatang ora si è deficiente quindi io non lo vedo allora si è deficiente vabbè ma non ha gli occhi oggi c'è un membro di ripeto l'hanno già luttato hai visto? no perché non l'ha taggato però la no perché c'è un membro eccolo cosa c'è? era un membro di nel soggiorno non vedevo dietro c'era nel soggiorno? sì ma cosa? non si era capito niente dicevo da i not comunque una melma e ho capito stanno sparando ragazzi eh ma da distante era uno sparo era uno sparo era uno sparo ci stanno sparando no ma tranquilla Isabella tranquilla è un po' un cuglione è iniziata una discussione troppo lunga parlatene in privato parlatene tra voi guarda signor che allunga le mani ti taglio la gola eh signor attenzione non me ne andrei guarda che un attimo la gola è un po' violenta vediamo con un foglio di carta sta di cazzo tra le dita sotto le unghie lo spigolo te lo metto nell'unghia la schiena è liquida non ho più problemi di schiena sono senza bastardi dove andiamo in otto? in verità siamo all'interno della della safe si può zoomare la mappa tenona ten che figo non lo sapevo vai qua lo vedi? cos'è? eh no dritto 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 a sinistra si lo so non devi sbronzarti no e si che si deve sbronzare c'ha il fuoco adesso c'ha il falo non si deve e invece si ma ti ha messo gli sbronzati no no non stiamo andando verso gli sbronzati e c'è uno in otto uccidilo non posso uccidilo l'ho colpito lui è colpito me in otto in otto uccidilo che so non è possibile però eh non ne hai mai colpito mai eh no ma allora all'inizio ho sparato male ma dopo gli ho sparato addosso fanculo ah in due molto male fanculo la partita è perfetta arriva lui non stiamo andando se gli spari eh no a parte che stavo guidando gatto non è colpa mia non devo farlo guidare gatto è quello il mio problema ma non è quello è che dovevate stare zitti voi ma davvero se dovevate no dovevate stare zitti perché adesso sono testato ah vedo ho sparato male perché perché il gioco non è tu non sei espri tu che vogliamo fare ragazzi hai chiuso no grazie per essere passati vi ricordiamo appunto domani Pathfinder alle tre alle tre grazie per le sub per le donazioni vi vogliamo un grande così di bene bene esatto tanto non ti si vede cosa grande la gente che mi ha visto sa quanto grande sono e ho aperto le mie braccia quindi io se lo faccio esco fuori dalla finestra ah vedi è casa piccola a domani grazie a tutti per averci seguito buona serata e ci vediamo domani a domani ciao 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 ciao